Quello che sta succedendo sugli alberi di via Manin è veramente vergognoso e scandaloso. Per rifare l'asfalto e i cordoli si sono tagliate le radici di uno splendido filare di aceri saccarini. Questo è un duplice danno, un danno perché nel medio termine va a inficiare la stabilità di queste piante. Nel lungo termine da queste ferite entreranno dei funghi i quali faranno marcire tutto l'apparato radicale e le piante cadranno. Ora in questa epoca di cambiamenti climatici dove si realizza l'importanza degli alberi per il nostro ambiente è veramente inconcepibile che un'amministrazione permetta a discapito di un regolamento comunale che impone alla salvaguarda degli apparati radicali tutto ciò. Intanto l'amministrazione comunale ribadisce di aver fatto un nuovo sopralluogo nella zona dei lavori e di aver effettuato dei tagli superficiali di parti esterne della radice quindi non è stato toccato l'apparato radicale strutturale della pianta quindi non ci sono problemi di tenuta i lavori sono stati eseguiti nella massima cura per evitare appunto rischi di crolli nella zona di di pia mani. Namaz Nago. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.